Saranno giudicati da? Dal Porto Rico, Velez Pico Roberto Thank you Roberto for being here with us Chiedo l'età dei veterani all'ingresso, perfetto Ecco quindi a voi, Terranova di 9 anni Schnauzzer Gigante di 9 anni American Staffordshire di 9 anni Border Collie di 9 e mezzo 9 e mezzo il pastore australiano 8 anni il Samoyedo 10 anni il Golden Retriever 9 anni il Labrador Retriever 10 anni il cane da pastore scozzese a pelo corto 10 anni il Whippet 13 anni il Jack Russell 9 anni e mezzo il Cairn Terrier The Age of George 10 anni grazie L'Ebagnol Nano Continentale Papillon E 9 anni il Bassotto Standard a pelo D'Oro A pelo lungo Da Abbiamo una prima selezione, il carterer, il labrador retriever, il samoyedo, il pastore australiano, border collie. La mia presentatrice mi suggerisce le razze, grazie. Invito nel pre-ring tutti i migliori di razza delle razze italiane. Attention please, all best of breed of Italian breeds in collection ring, thank you. Grazie a tutti. Attenzione, simbolo che l'inverno è un giudice, 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 è un giudice. La mia presentatrice che arriva da Puerto Rico e si chiama, fa anche rima, Roberto Velespico. Labrador retriever, soggetti di età superiore agli otto anni, i nostri veterani come da regolamento ENCI, soggetti in splendida forma, scelti dal nostro giudice. Invito nuovamente i migliori soggetti appartenenti alle razze italiane a presentarsi nel pre-ring. All best of breed of Italian breeds in collection ring, thank you. Grazie a tutti. Ecco quindi che il nostro giudice è detto all'elenco dei vincitori. Ringrazia tutti gli handler. Eccoci quindi pronti, Laura, per chiamare sul terzo gradino del podio... Labrador retriever. Secondo posto per... Kern Terrier. Applausi del pubblico per accompagnare sul podio il vincitore della categoria veterani esposizione internazionale canina di Reggio Emilia 2018. Applauso, applauso, applauso. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. A te, Laura. Samoyedo. Total White Look. Tributate del pubblico per articolazione internazionale canina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per articolazione internazionale canina di Reggio Emilia 2018. Anche a tutti i tempi. Grazie a tutti. A te, Laura. E a te, Laura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo quindi pronti per il prossimo raggruppamento.